Parliamo di transizione energetica degli insediamenti dei generatori da fonti rinnovabili. Il punto è di Maurizio Ciotola. Tutti sanno che la transizione energetica non può essere determinata solo dalla sostituzione uno a uno tra fonti energetiche di origine fossile con quelle di tipo rinnovabile, almeno non subito e soprattutto per il livello di efficienza raggiunto nel sistema di trasformazione rispetto alle superfici necessarie. Da questo si comprende che non è possibile riempire ogni centimetro quadrato della superficie terrestre per ottemperare l'alfabisogno energetico di una regione, di un paese, di un'area regionale internazionale, perché se anche lo facessimo le problematiche di connessioni alle reti resterebbero insormontabili. E se vi è fin troppo idealismo che accompagna la transizione, ve ne è altrettanto contrario che vi si oppone senza grandi analisi. Di certo vi sono coloro che operano dietro le quinte, avvocando a sé la regia, un po' come direbbero in Sicilia, i pupari muovono i pupi. Non abbiamo bisogno solo di energia da fonti rinnovabili, ma anche della riduzione del grande impatto ambientale che industrie energivore, chimiche, di raffinazione, metallurgiche e di trasformazione determinano sul territorio. In particolare su un territorio come il nostro, che oltre a presentare aree altamente contaminate e già a rischio ambientale, accoglie industrie che di recente sono state oggetto di indagine della magistratura per disastro ambientale. E il paradosso è che, in un gioco di interessi abbastanza espliciti, i proprietari di queste aziende si ergono improvvisamente a tutori del paesaggio, nonostante le loro società si siano fatte beffa dell'ambiente come indicano le carte processuali.